Questi sono i sacerdoti e leviti che sono tornati con Zorobabele figlio di Sealtiel e con Giosuè. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Giosuè. Leviti, Giosuè, Binnui, Kadmiel, Serebia, Giuda, Mattania, che con i suoi fratelli era preposto al canto degli inni di lode. Bacbukia e Unni, loro fratelli, stavano di fronte a loro secondo i loro turni di servizio. Giosuè generò Io-Iakim, Io-Iakim generò Eliasib, Eliasib generò Io-Iadà, Io-Iadà generò Gionata, Gionata generò Iaddua. Al tempo di Io-Iakim, i sacerdoti che erano i capi delle casate sacerdotali erano i seguenti. Del casato di Seraia, Meraia, di quello di Geremia, Anania, di quello di Esdra, Mesullam, di quello di Amaria, Giovanni, di quello di Malluc, Gionata, di quello di Sebania, Giuseppe, di quello di Karim, Adna, di quello di Meraiot, Kelcai, di quello di Iddo, Zaccaria, di quello di Ginneton, Mesullam, di quello di Abia, Zicri, di quello di Miniamin, di quello di Moadia, Piltai, di quello di Bilga, Sammua, di quello di Semaia, Gionata, di quello di Yo-Iarib, Mattenai, di quello di Yeadia, Uzi, di quello di Sallu, Callai, di quello di Amok, Eber, di quello di Kelchia, Casabia, di quello di Edaiya, Netaneel. I Leviti furono registrati quanto ai capi casato al tempo di Eliasib, di Io-Iadà, di Giovanni e di Iaddua, e i sacerdoti sotto il regno di Dario il Persiano. I capi dei casati levitici sono registrati nel libro delle Cronache fino al tempo di Giovanni, figlio di Eliasib. I capi dei Leviti, Casabia, Serebia, Giosuè, figlio di Cadmiel, insieme con i loro fratelli che stavano di fronte a loro, dovevano cantare inni e lodi a turni alternati, secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio. Mattania, Bakbukia, Abdia, Mesullam, Talmon, Akub erano portieri e facevano la guardia ai magazzini delle porte. Questi vivevano al tempo di Io-Iakim, figlio di Giosuè, figlio di Io-Zadak, e al tempo di Neemia, il governatore, e di Esdra, sacerdote e scriva. Per la dedicazione delle mura di Gerusalemme, si mandarono a cercare i Leviti da tutti i loro luoghi, per farli venire a Gerusalemme, per celebrarvi una dedicazione festosa, con inni e canti, cembali, arpe, eccetera. «Sadunarono dunque i cantori dalla regione attorno a Gerusalemme e dai villaggi dei Netofatiti, da Bet Galgala e dalle campagne di Geba e di Asmavet, poiché i cantori si erano edificati villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i Leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Allora io feci salire i capi di Giuda sopra le mura, e formai due grandi cori. Il primo procedeva sulle mura, a destra, verso la porta dell'etame. Dietro a esso camminavano Osea e la metà dei capi di Giuda, Azaria, Esdra, Mesullam, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, appartenenti al coro dei sacerdoti, con trombe. Zaccaria, figlio di Gionata, figlio di Semaia, figlio di Mattania, figlio di Michea, figlio di Zaccur, figlio di Asaf, e i suoi fratelli Semaia, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Giuda, Canani, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Esdra, lo scriba, camminava davanti ad essi. Giunti alla porta della sorgente, salirono frontalmente al di sopra dei gradini della città di Davide, fino alla porta delle acque, a oriente. Il secondo coro si incamminò verso la sinistra, vi andavo dietro io e metà dei principi del popolo, sulle mura. Passando oltre la torre dei forni e fino al muro largo, oltre la porta di Efraim, la porta vecchia e la porta dei pesci, la torre di Cananeel e la torre di Meale, fino alla porta delle pecore, si fece sosta alla porta della prigione. I due cori si fermarono poi nel Tempio di Dio, così anch'io e la metà dei magistrati assieme a me e i sacerdoti Eliakim, Maseia, Miniamin, Michea, Elioenai, Zaccaria, Anania, con le trombe, Emaaseia, Semaia, Eleazzaro, Uzzi, Giovanni, Malchia, Elam, Ezer. I cantori fecero sentire la loro voce, mentre Israachia li dirigeva. In quel giorno offrirono grandi sacrifici e si rallegrarono perché Dio li aveva allietati con una gioia straordinaria. Anche le donne e i fanciulli presero parte alla Letizia e il tripudio di Gerusalemme, sudiva di lontano. In quell'occasione alcuni uomini furono preposti alle stanze che servivano da magazzini per le offerte, per le primizie e per le decime, allo scopo di raccogliervi dai contadi delle città i quantitativi fissati dalla legge per i sacerdoti e i leviti, poiché i sacerdoti e i leviti, nelle loro funzioni, erano la gioia dei giudei. Essi assicuravano il servizio di Dio e il servizio delle purificazioni. Altrettanto facevano i cantori e i portinai, secondo l'ordine di Davide e di Salomone, suo figlio. Fin dall'antichità, infatti, dai tempi di Davide e di Asaf, c'erano capi cantori e cantici di lode e di ringraziamento venivano innalzati a Dio. Ai tempi di Zorobabele e ai tempi di Neemia, tutto Israele dava i quantitativi fissati per i cantori e i portinai, giorno per giorno. Dava ai leviti le offerte sacre e i leviti ne davano ai figli di Aronne.